La pace del Signore sia con tutti noi, cari nella grazia. Dio ci benedica ancora questo nuovo giorno e che possiamo fare ogni cosa secondo la volontà di Dio e di Gesù. Faccio sapere che in questi giorni sto facendo molti video e li potrete trovare nel mio sito www.gesulaluccedelmondo.it oppure nei miei profili scrivendo Angelo Picone in Youtube o anche in Facebook. Inoltre potrete trovare tutto quello che volete in internet quando troverete nella pagina Angelo Picone. Troverete tutte le pagine, htm e tante altre cose che potrete usufruire in ogni cosa, anche in tutto e per tutto. Inoltre vi benedico nell'amore e nella grazia di Gesù. Quest'oggi siamo fuori e che la gioia del Signore siamo qui vicini in Spirito Santo a tutti voi. Questo ho sentito nel cuore di dirvi ancora oggi. Inginocchiatevi davanti alla presenza del Signore anche con la mente, non è importanza. Ma l'importante è che presentate tutti i vostri problemi ai piedi di Gesù. Facendo questo troverete la pace, la gioia, la serenità in Cristo Gesù. E inoltre, quando c'è qualcosa, potete chiamarmi anche in Skype aggiungendomi come il nominativo più vicini a Gesù. Tutto unito. Ripeto, più vicini a Gesù. Sempre unito. Quando mi aggiungerete, potrete scrivermi, fisseremo un appuntamento. Per qualsiasi problema, il Signore risolverà tutto. Lo lascio tutto nelle mani di Dio e di Gesù. In tutto questo, sono sicuro che con le cose che il Signore mi ha dato nella fede, potremmo arrivare oltre frontiere, oltre il limite del male, oltre il limite che il nemico va messo addosso. E riacquisterete la pace, la gioia e la misericordia di Dio in Cristo Gesù. Inoltre, quando avete bisogno di qualcosa, potete chiamarmi sia con Whatsapp digitando il numero 0049 177 18 38 0 57 Ricordatevi, Whatsapp o scrivete Angelo Piccone e mi aggiungete. A Dio c'è la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Dio ci benedica. Pace del Signore.